Qualche novità negli uomini per poter assumere una fisionomia ancor più duttile ed elastica al cospetto di un Verona che spingerà tanto per provare ad accorciare le distanze dalla zona salvezza. Gli scaligiri sono in salute, corrono e producono occasioni da gol grazie ad una spiccata propensione a vincere duelli in mezzo al campo e dalla capacità di affondare i colpi con l'Azovic e non solo. La serenitana però ha le sue armi e le sue qualità da contrapporre. Dopo la rifinitura di domani mattina alla Rechio, ridice 30, davanti ai propri tifosi, la squadra sarà ancora più carica e motivata. Alla vigilia di San Valentino in fondo il sentimento più forte e nobile non può che avere la precedenza. L'amore dei tifosi servirà come anche perché Verona è tappa importante per il cammino della serenitana che è il reddice da una sconfitta interna con la Juventus in cui non ha dato quei segnali di coraggio e determinazione che erano stati colti a Lecce. Cambia l'avversario certo, non dovrebbe però cambiare lo spirito. Tuttavia per una gara importante in ottica salvezza, Nicola ha diverse soluzioni tra cui scegliere. Il peso delle assenze è innegabile ma bisogna dimostrare avere anima ed idee a prescindere. Una di queste potrebbe portare a una difesa diversa rispetto alle ultime due partite. Bronte Erzino è ipotesi calda e da quel punto l'ex Lovato potrebbe dare continuità al buon secondo tempo disputato contro la Juve affiancando Trosse Kong. Braderic a sinistra e Candreva a destra potrebbero fare dei elastici e determinare il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 a seconda delle zolle battute sulle rispettive corsie. In mezzo al campo a Boinen si chiederà di strofinare bene la lampada per far uscire quel genio che indubbiamente c'è ma in questa stagione è stato assai intermittente. Serve qualità nella gestione del pallone per disinnescare il pessimo del Verona e mandare fuori i giri gli scaligeri. Con il 9-10 ci saranno Lassana, Coulibaly e probabilmente Cernigoi in rampa di lancio e candidata a dare un po' di riposo inizialmente a Vilena. In avanti di A potrebbe avere licenza di stare un po' più vicino all'area di rigore magari partendo comunque dall'esterno per tirar fuori dalla linea centrale destro della linea 3 scaligera. Al centro Bonazzoli dovrebbe avere una chance, gli si chiederà di fare da raccordo ripulendo palloni e provando anche a fare da terminale offensivo all'occorrenza. Grazie. 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 Grazie.